E' stato un anno di intensa attività per gli agenti della Polizia di Stato che con un video emozionale hanno raccontato 365 giorni di attività per festeggiare a Salerno nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescoviglia la presenza delle massime autorità civili e religiose del capoluogo i 170 anni dalla Fondazione. La cerimonia, preceduta dai dati illustrati dal questore Maurizio Ficarra in procinto di andare in pensione e quindi alla sua ultima festa a Salerno ha previsto la consegna di onorificenze agli agenti che si sono distinti in particolari operazioni. I dati hanno consentito di fotografare attraverso i numeri l'andamento della criminalità che ha registrato qualche incremento ma i numeri devono fare i conti con un anno il 2020 in cui il lockdown ha fermato anche la criminalità. Il Covid purtroppo è stata una sventura che si è battuta su di tutti e anche a noi ci ha quasi modificato il nostro comportamento professionale perché come tutti voi sapete abbiamo dovuto inseguire la situazione nel senso di prevenire quelle violazioni, quei comportamenti che avrebbero agevolato purtroppo questa terribile pandemia. E anche abbiamo avuto purtroppo anche un piccolo aumento di reati che era immaginabile considerato che molti delinquenti siano fermati per due anni ma fortunatamente a fronte di un aumento di furti che noi abbiamo avuto in questo anno abbiamo avuto pure tantissimi arresti, abbiamo avuto più arresti del solito quindi noi continuiamo sempre la nostra battaglia su tutti i fronti e la festa della polizia che poi non è una festa di questi tempi con quello che succede nel mondo, preferiamo dire un anniversario della fondazione, è quella in cui ci fa fare il punto della situazione e quindi il punto della situazione anche nella provincia di Salerno è quello che ci fa essere moderatamente soddisfatti per quello che stiamo facendo. Però lo dovete dire voi, lo dobbiamo dire ai cittadini salernitani se sono soddisfatti di noi. Il questore si è poi soffermato a commentare anche l'incremento di furti registrati negli ultimi giorni proprio nel comune capoluogo e ha parlato dell'intensificazione dei controlli in prossimità del Ponte Pasquale. I controlli per i furti li facciamo, è chiaro che bisogna anche aiutarci con l'interazione che ci deve essere tra le forze di polizia e la società dei commercianti anche deve essere muniti di più mezzi di protezione passiva perché ci piacerebbe a tutti avere una macchina della polizia, un poliziotto sotto ogni strada, sotto ogni angolo di strada, questo purtroppo non è possibile perché ovviamente è immaginabile, allora i cittadini devono collaborare e contribuire. Io dico una cosa che a Salerno la dico da 4 anni ma la dico ovunque, a noi non arrivano tantissime segnalazioni nelle quali ci dicono attenzione c'è una persona sospetta, attenzione c'è una macchina che non ci piace, ci sono persone che normalmente qui nei pressi non vediamo mai, di queste segnalazioni non ce ne arrivano mai. Allora noi vorremmo che, noi facciamo il possibile, cerchiamo di spendere il nostro impegno in ogni direzione, ma i cittadini ci devono anche aiutare noi e aiutare se stessi a prevenire questi reati. State pensando a un piano straordinario di controlli prima di Pasqua, durante anche il Ponte Pasquale? Sì, certamente, in occasione di Pasqua abbiamo già fatto un tavolo tecnico, stiamo facendo un'ordinanza per rinforzare la vigilanza, proprio nel momento in cui la gente si diverte un po' di più, speriamo che si diverta nonostante questo brutto momento che stiamo passando, noi in quel momento i nostri poliziotti si impegneranno maggiormente nel controllo delle città.